Ciao a tutti, noi siamo i The Babes! Abbiamo cambiato per l'ennesima volta location Esatto, perché a noi piace così, perché siamo creativi ogni tanto cambiamo Esatto E così Poi di prima mattina non ci ricordiamo neanche chi siamo quindi trovare la stessa location è anche difficile Questa è la prova che è prima mattina Mamma mia Quindi abbiamo, io ho la voce da trans almeno, vabbè e oggi siamo qua per fare una nuova reaction È dritta sta fotocamera? Sì, sì Per fare una nuova reaction ne abbiamo sentito parlare tantissimo ma non l'abbiamo ancora vista perché ce la siamo tenuta per questo momento Esatto Per vederla con voi Esatto Che è la performance di Lady Gaga con Bradley Cooper Shallow Esatto From A Star Is Born Esatto Noi il film non l'abbiamo neanche visto Infatti io vorrei Purtroppo non l'abbiamo visto Dobbiamo assolutamente vederlo perché è stato super acclamato insomma Beh, ha vinto la canzone ha vinto l'Oscar Esatto Quindi lei ha vinto l'Oscar Siamo contentissimi per lei e siamo curiosi di vedere la performance Chi è che mi scassa non gli ok Siamo curiosi di vedere la performance Quindi prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale Sì E basta Basta Seguici su Instagram Esatto anche The BabesTV Fliiii Quando le ciance Iniziamo subito Nonno mia Che cavolo di palcoscenico E io lo dobbiamo stare No? Non ci sto Ah Ops Faccio dal libro Che belli Sì Sono troppo carini Io spero che tra sti due Chissà Fateci sapere se combinano qualcosa sti due Wow E la voce che c'ha Molto country Vero Sì Però è bravo Sì Sono bravo Fa tutto Prego Sì 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 Guarda lei Come è presa Questa emozione Perché secondo me Chissà Può essere tutto Ma si sente proprio al pianoforte Mamma mia Qual è quando suona al pianoforte? Madonna Oh c'è brivili C'è una voce così particolare lei Bellissima Oh Lei la sente proprio Sì Guarda lei Guarda lei Questa emozione Questa emozione Questa emozione Questa emozione Madonna E' così Madonna E' così Oh Oddio Oddio Wow Wow Vamos Mamma lei Pagli brava Oddio Oddio C'è stato un momento in cui c'è stato un momento in cui ci ho avuto veramente Uff Sai quando fatti tutto il calore Che stai per piangere Troppo carini Oddio Bravi 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 Mi piace da un sacco Mi piace da un sacco Beh dai Cioè no Forse non ci rendiamo Noi la diamo così per scontato a sta cosa Ma questa sta cantando in mezzo a un botto di persone agli Oscar Mentre suona Una canzone che non è facilissima da cantare Non è facile da cantare per niente E intanto suona ma suona proprio tutto 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 Intanto suona con lui che te guarda Io penso che io Non si vengono anche a dire Cioè veramente cazzo Arona Tanto di cappello Mamma mia Brava Io poi Ultimamente la sto rivelutando un sacco lei Sì lei sì È proprio cambiata Ha cambiato genere Sì perché all'inizio era più Pop Adesso invece anche l'ultimo album che ha fatto Bellissimo C'ha in realtà un sacco di emozioni dentro che Riesce a Sì anche perché Per chi non l'avesse visto Potete anche vedere la nostra reaction a Joanne Mamma mia Quella è stata epica Io ho pianto Quindi se volete vedere un'emotional reaction Andate a vedere Io non ci ho proprio fatto È stato stupendo È stato bello veramente Vabbè Niente Quindi questa è la nostra reaction Speriamo che vi sia piaciuta Mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate le notifiche Esatto Basta Basta campana Perché siamo adulti Ormai Ci vediamo in un prossimo video Fateci sapere che con ero pensate di questa reaction Scriveteci anche tutte le curiosità Noi siamo curiosi Esatto Anche tra sti due Noi li scippiamo No Ovviamente se non sono già impegnati Sono impegnati non scippiamo a niente Non siamo contro queste cose Sciupa famiglie Esatto Bene Quindi Detto questo Ciao Ciao We're far from the shallow Ciao